Desidero inviare un sincero ringraziamento ai numerosi messaggi augurali per una veloce convalescenza e ripresa delle attività artistica. Con alcune righe scritte di suo pugno, il direttore d'orchestra Riccardo Mutti ha voluto ringraziare tramite il suo sito di internet i tanti che in questi giorni gli hanno inviato messaggi d'affetto e di pronta guarigione. Il maestro è stato infatti operato all'ospedale di Ravenna in seguita ad una caduta avvenuta nella propria abitazione. «È stata una caduta sciocca», ha commentato. Dopo l'incidente domestico, Mutti è stato sottoposto ad un'operazione all'anca. L'adegenza non sarà breve, ma il maestro avrebbe già dichiarato di volersi dimettere al più presto in forza per proseguire i suoi impegni nazionali e internazionali.